Ciao a tutti, il nostro consueto buon lavoro e un ben ritrovati a questa puntata numero 223 di Nuovi Lavori in Corso, il magazine di informazione sindacale curato dalla CGL di Parma che vi propone notizie sul mondo del lavoro e dei contratti, diritti, la previdenza, lo stato sociale, l'immigrazione, la tutela del consumatore. E apriamo oggi la pagina principale su una mobilitazione, l'ennesima oramai di questi anni di crisi pesante di cui non è dato vedere la fine. Una mobilitazione con uno sciopero generale nazionale di 4 ore che il prossimo 14 novembre vedrà lavoratori, giovani, pensionati di tutta Europa scendere nelle piazze tutti insieme per dire no all'austerità e chiedere la difesa dello stato sociale e dei contratti nazionali. Ma sentiamo dalla viva voce di Patrizia Maestri, segretaria generale della CGL di Parma, come si svolgerà la manifestazione a Parma e soprattutto perché esserci. 4 ore di sciopero proclamato dall'ACES, dal sindacato europeo, 4 ore di sciopero per dire che siamo contrari anche come CGL a quello che sta avvenendo in tutta quanta Europa, alle politiche tutte quante concentrate sull'austerità che portano solamente l'eccessione. I cittadini, i lavoratori e i pensionati di tutta Europa stanno pagando il prezzo di un debito sociale che viene praticamente ripianato attraverso misure che contengono e che portano solamente povertà. Mentre il capitale finanziario e i grandi speculatori non fanno altro che arricchirsi. Quindi è un nuovo patto sociale, noi lo chiediamo con questo sciopero, a cui aderiscono tutti i paesi europei, quasi tutti i paesi europei, a cui purtroppo noi avremmo voluto partecipare insieme a CGL e Will, ma anche in questa occasione non ci sono stati. Un nuovo patto sociale a partire da politiche che sostengano occupazione, il lavoro e il sociale. Anche la Tobi in Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie, dovrà servire per ripianare il debito e per riportare quindi quelle misure che sostengono le persone e che aiutano quindi nella vita quotidiana. A Parma presidio davanti alla prefettura alle ore 9, corteo fino a Piazza Garibaldi, poi presidio in Piazza Garibaldi e successivamente davanti alla provincia, Piazzale della Pace, per ritrovarci tutti davanti all'EFSA. L'EFSA non perché abbiamo contrarietà naturalmente verso questa struttura importantissima per il nostro territorio, ma perché rappresentano un'istituzione europea, quindi simbolica per il nostro sciopero, per la nostra protesta. Il 13 e 14 novembre le lavoratrici e i lavoratori di Poste Italiane S.P.A. saranno chiamati a rinnovare con il loro voto RSU e RLS, una elezione che è anche un'importante occasione di democrazia. È il voto delle rappresentanze sindacali un evento importante per il lavoro e ancora più importante se sarà coronato da una grande affluenza alle urne. Perché dunque recarsi a votare e perché eleggere le liste S.L.C. C.G.L. ce lo facciamo spiegare da Maria Paola Froldi, delegata per Poste S.P.A. dell'S.L.C. C.G.L. di Parma. Perché andare a votare? A votare perché è un momento molto importante di democrazia e soprattutto perché in questo modo i lavoratori hanno la possibilità di dare voce a quelli che sono i loro problemi, a quelli che sono le loro difficoltà e a quello che sono le istanze che loro vogliono portare all'azienda. Quindi è un momento importantissimo che non bisogna assolutamente mancare perché la forza delle organizzazioni sindacali e delle RSU è data proprio dal fatto che alla base ci sono i lavoratori che chiedono di essere da loro rappresentati. In questo momento più che mai pensiamo che i valori che la C.G.L. porta avanti nel Paese siano valori molto importanti, i valori legati al lavoro, ai diritti, al futuro dei giovani e dei lavoratori tutti. Occupiamoci ora di sicurezza sul lavoro e di alcune importanti novità a disposizione dei lavoratori di Parma su questa delicata materia. Partiamo da Daniele Barbieri, coordinatore provinciale C.G.L. per gli organismi paritetici, che ci illustra un recente e innovativo accordo sulla formazione dei lavoratori. Il 29 di ottobre di quest'anno è stato firmato l'Unione degli Industriari Parmese, l'accordo che sviluppa quello che è stato l'accordo Stato-Regioni e che dà un servizio alle imprese di Parma innovativo per quanto riguarda la formazione dei lavoratori. L'accordo si divide in due parti, uno che ricalca esattamente lo Stato-Regioni e che quindi obbliga le imprese a informare l'organismo paritetico su quella che è la formazione, l'altro invece è il servizio vero e proprio che diamo come organismo paritetico dove sgraviamo l'impresa di tutti gli oneri burocratici e quindi sarà esattamente l'organismo paritetico che tramite i propri enti formativi, formerà i lavoratori, darà il libretto formativo e addempirà tutti gli adempimenti burocratici che l'azienda dovrebbe fare per conto suo. Questo penso che sia un'innovazione abbastanza importante, speriamo di darla a tutti perché ad oggi solo il commercio e l'agricoltura non hanno aderito a questo e speriamo che prossimamente gli OPP di competenza ratificano quello che non è stato ratificato all'Unione. E veniamo ad un altro accordo, questa volta sottoscritto tra sindacati e azienda USL di cui ci dà conto Fabrizio Ghidini, segretario confederale della Cigiele di Parma con delega alla sicurezza, che ci presenta anche un nuovo strumento di comunicazione messo a disposizione proprio dalla Cigiele di Parma. Il 31 ottobre scorso abbiamo raggiunto un accordo con la direzione dell'azienda sanitaria locale di Parma che pone al centro il problema della sicurezza nelle piccole e piccolissime aziende che sono numerosissime sul nostro territorio. L'accordo prevede due punti. Il primo è che all'inizio dell'anno, quando ci ritroviamo per concordare vicendevolmente il piano di lavoro per l'anno a venire, dedicheremo una specifica sessione alle problematiche delle microaziende. Il secondo punto riguarda un'attività di maggior coordinamento tra l'attività dei nostri rappresentanti territoriali per la sicurezza dei lavoratori e i funzionari e i tecnici dell'azienda sanitaria locale. Noi riteniamo che una collaborazione maggiore tra le due strutture sia importante per garantire maggiore tutele ai lavoratori. Lo strumento nuovo si chiama RLS Informa, è una newsletter prodotta dalla CGL di Parma che parla dei temi della sicurezza sul lavoro. Inizialmente era rivolta solamente ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e poi abbiamo deciso di aprirla per cui chiunque, lavoratore, dipendente ma chiunque, può inviandoci una comunicazione abbonarsi gratuitamente a questo strumento che avrà una cadenza mensile. Chi volesse ricevere, ripeto, gratuitamente questa newsletter deve scrivere a cglparmasicurezzalavoro.gmail.com Torniamo ora ad occuparci di legge di stabilità con particolare riferimento ai riflessi sulla popolazione anziana dei provvedimenti fiscali e previdenziali in essa previsti. Cosa si aspettano i pensionati da questa ennesima manovra di contenimento della spesa? Lo chiediamo a Gianni Caselli, coordinatore delle leghe SPI Cigeli di Parma. Noi siamo molto preoccupati per la situazione economica, finanziaria, non solo generale ma anche in questa fase politica particolare. Il governo sta emanando la legge di stabilità e purtroppo senza nessuna contrattazione, che è una caratteristica del governo tetrico e noi auspichiamo naturalmente che questa fase eccezionale transitoria si chiude nel più breve tempo possibile per ritornare ad un governo politico che ci consente di contrattare, di fare le nostre proposte e di fare anche degli accordi. In particolare noi siamo preoccupati perché nelle legge di stabilità, almeno al momento, non si vedono interventi su situazioni che noi riteniamo prioritarie e di estrema gravità sociale. Pensiamo ai pensionati che percepiscono meno di 15 mila Euro all'anno, pensiamo ai pensionati che percepiscono meno di 1000 Euro al mese, pensiamo a coloro che sono stati licenziati o che non hanno più posto di lavoro e che non hanno maturato a seguito della legge Fornero il diritto alla pensione, i cosiddetti esodati, che si trovano in una situazione di totale gravità perché non hanno nessun reddito, non percepiscono né redditi del lavoro né redditi della pensione. E poi siamo preoccupati perché questa situazione ricadendo sugli enti locali toglie anche gli enti locali in molte situazioni, la possibilità di intervenire sui servizi pubblici, spesso assistiamo al fatto che le rette vengono aumentate in tutti i servizi pubblici, per gli anziani, per l'infanzia e quant'altro, e non vengono neanche adeguati alle esigenze che oggi vengono manifestate. È ora il momento della rubrica dedicata all'attualità sindacale. Uno dei temi caldi del dibattito politico-economico, oltre che sindacale, di queste settimane è rappresentato dalle tante problematiche vertenze di rinnovi contrattuali aperte un po' in tutti i settori. Il trade union di quasi tutte le trattative è il tentativo di ridurre i diritti e le tutele normative, flessibilizzare al massimo l'organizzazione del lavoro e in buona sostanza scaricare sui lavoratori i costi sempre più elevati delle imprese. Caso da manuale, il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, di cui parliamo con Antonella Stasi, segretaria generale della FIOM di Parma. A giorni verrà probabilmente sottoscritto un nuovo accordo separato dopo quello, lo ricordiamo, del 2009, ancora una volta senza la FIOM. Come si è arrivati a questo punto e cosa comporterà questa scelta? È chiaro che a breve i lavoratori metalmeccanici subiranno un ulteriore accordo separato. Federmeccanica, con la complicità dei sindacati minoritari, vuole estendere il modello FIAT in tutte le aziende metalmeccaniche. Infatti in linea con la piattaforma che Federmeccanica ha presentato a Bergamo, non quella dei sindacati che in teoria dovrebbe essere stata votata dai lavoratori, in quei giorni qua a quel tavolo si discute di aumentare l'orario di lavoro, sia giornaliero che settimanale, obbligare i lavoratori a lavorare 250 ore in straordinario e si parla anche di discutere, di mettere in discussione i primi tre giorni di malattia. Credo che questo è davvero scandaloso in un momento come questo. Si parla dunque di sindacati minoritari, un tema che inevitabilmente risolleva il problema della rappresentanza e della democrazia nei luoghi di lavoro. Come se ne viene a capo? Tanto il problema grosso è che noi siamo in assenza di regole sulla rappresentanza e sulla rappresentatività e ognuno è libero di firmare contratti senza nessun tipo di problema. È chiaro che oggi è ancora più grave perché pur in presenza di accordi firmati da tutti che in quei casi si doveva partire con la certificazione degli iscritti, nessuno vuole affrontare il problema perché nessuno ha voglia di misurarsi e di contarsi veramente. La cosa che deve essere è chiaro è che la FIOM comunque metterà in campo iniziative legali e di lotte per contrastare questo modello, un modello che di fatto cancella completamente il contratto nazionale. Infatti anche a Parma le aziende devono sapere, devono essere consapevoli che una volta che si firma un ulteriore accordo separato loro i conti con la FIOM li devono fare. In tutto ciò non si può non evocare il caso FIAT e la vicenda dei 19 iscritti FIOM reintegrati dalla Cassazione che per Marchionne significa mettere alla porta altri 19 dipendenti. Il caso FIAT oggi è un problema anche per quelli che allora, due anni fa, invitavano la FIOM a firmare quell'accordo. Come dire, meglio tardi che mai. Dopo la sentenza del Tribunale di Roma che sancisce il rientro dei lavoratori iscritti alla FIOM a Pomigliano, Marchionne ancora una volta decide di dividere i lavoratori perché quello è lo scopo e infatti a fronte delle 19 assunzioni di lavoratori della FIOM ne lascia a casa altre 19 immobilità. Io credo che in un paese democratico il governo dovrebbe intervenire su questo e dovrebbe intervenire pesantemente perché se passa l'idea che un lavoratore non può decidere liberamente a quale sindacato aderire è davvero difficile poi riempirsi la bocca di democrazia e credo che questo dovrebbe far riflettere anche FIOM e Wilm che Marchionne in effetti ha preso in giro tutti. Non rispetta gli accordi, non investe e il piano Fabric Italia non esiste, non esiste più ma io credo non è mai esistito. L'unica cosa certa è che quei lavoratori hanno perso diritti fondamentali che sono alla base di come si vive in un'azienda. È proprio per questo che per riconquistare dignità e diritti credo che la scelta che ha fatto anche la FIOM di aderire alla raccolta firme per proporre un referendum che ripristino l'articolo 18 e cancella l'articolo 8 sia una scelta giusta. È per questo che io invito tutti a firmare per quei due requisiti e sono consapevole che probabilmente non si arriverà al referendum se non si raccolgono le firme oppure il referendum sul lavoro sappiamo tutti come sono andati negli ultimi anni. Però credo che questo potrebbe essere la strada anche per aiutare sia i lavoratori ma soprattutto anche quelle forze politiche che oggi su questi temi non vogliono esprimersi. Siamo ora al momento dedicato all'informazione in pillole, esodati e aspi, parole che fino a qualche mese fa non significavano nulla per la maggior parte di noi e che ora rappresentano il tormentone o l'incubo previdenziale postmoderno, come ben sa Nadia Ferrari, direttrice del patronato Inca della CGL di Parma. In questo periodo vorremmo poter avere molte certezze, però purtroppo non è così. Mi riferisco al tema salvaguardati esodati. Stiamo arrivando in fondo al percorso per i primi 65 mila salvaguardati e approfitto per dire che chi ha fatto accordi individuali o collettivi che non avesse ancora fatto un'eventuale segnalazione alla direzione provinciale del lavoro ha tempo soltanto fino al 21 di novembre per poterlo fare. Quindi chiediamo se qualcuno per caso non si fosse dimenticato di rivolgersi al patronato per fare questo tipo di segnalazione. Dopodiché penso che andranno a regime le graduatorie fatte in tutte le sedi IMSS d'Italia e nei primi dell'anno nuovo dovremo avere qualche risposta e sapere chi si può considerare salvaguardato. Resta tuttavia il grosso rebus degli ulteriori 55 mila per i quali è stato approvato il decreto, ma che non è ancora stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale. È in questi giorni la discussione anche in Parlamento sugli ulteriori 10 mila promessi dal governo, ma purtroppo certezze non abbiamo. Quindi noi ci terremo aggiornati e saremo a disposizione non appena avremo delle novità. L'altra cosa che volevo approfittare per dire è la modifica degli ammortizzatori sociali. Come probabilmente saprete dal 1 gennaio del 2013 la disoccupazione ordinaria e la disoccupazione a requisiti ridotti non ci saranno più, ma saranno rispettivamente aspi e mini aspi. A fronte delle promesse di estensione a varie categorie di lavoratori prima esclusi da questi provvedimenti ci sono ancora moltissime incertezze. Abbiamo bisogno di una circolare esplicativa dell'Inps che disciplini per bene come e chi avrà diritto a questi ammortizzatori, così come abbiamo la necessità di sapere dal Ministero che fine faranno coloro che avrebbero diritto alla disoccupazione a requisiti ridotti che però dal 1 gennaio del 2013 non esiste più. Vi invitiamo pertanto a tenervi in contatto con i vostri sindacalisti di riferimento e con il patronato in modo tale da poter presentare le domande non appena si presenteranno le condizioni. Bene, con questo è davvero tutto. Vi ricordo che oltre che sul nostro sito www.cglparma.it potrete rivederci in replica su questa stessa emittente lunedì 19 novembre alle 19.15. Nuovi lavori in corso tornerà invece con una nuova puntata lunedì 26 novembre sempre alle 19.15 su Teleeducato. Grazie per la cortesa e attenzione, buon proseguimento di serata e buon lavoro a tutti. Grazie per la cortesa e attenzione, buon proseguimento di serata e attenzione, buon proseguimento di serata e attenzione, buon proseguimento di serata e attenzione. Grazie.